Giannichetta, Locatelli, Birov, Amorosa, in panchina con il numero 12 in Cania, al risorio, Marcello Ritti, numero uno, Angelo Peruzzi, numero 22, Gianluca Pessotti, Numero 2 Ciro Ferrari Numero 4 Paolo Montello Numero 6 Manuel Di Manu Numero 19 Antiglio Lombardo Numero 20 Alessio Taccinari Numero 21 Sinedine Silvio Salvatis Numero 6 Flavio Jumic Numero 15 Cristian Vieri E numero 9 Alen Toxic In panchina per il numero 12 Michelangelo Rampulla 13 Marchiuliano 5 Sergio Porrini 8 Antonio Conte 14 Didier Duchamp 7 Angelo Trilidio 16 Nicola Amoruso 12 Marchiuliano Grazie a tutti. 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 a tutti.